Kate Middleton ha un piano preciso per il futuro del piccolo figlio George La principessa non ha alcun dubbio. Che cos'ha deciso? La principessa del Galles è sempre pronta a servire la corona, indipendentemente dalla circostanza Nel corso degli anni Kate ha stupito tutti. Specialmente per il suo rapporto speciale con il principe William I due hanno un rapporto quasi viscerale. In grado di superare ogni ostacolo che la vita può porre sul loro cammino Dall'amore tra i due sono nati tre fantastici figli. Louis, Charlotte e George Quest'anno è stato particolarmente difficile proprio per la consorte del futuro re Dopo l'intervento addominale di inizio anno, la principessa è sparita dalle scene alimentando i rumors sul suo conto Poi la duchessa di Cambridge è uscita allo scoperto rivelando di star lottando contro un brutto male L'inconveniente però non ha impedito alla Middleton di stabilire quale sarà il futuro dei suoi figli Infatti sembra proprio che la futura regina abbia delineato un piano per il suo George Kate Middleton Il piano per il piccolo George Cosa gli riserverà il futuro? Kate Middleton Kate Middleton svolge un ruolo cruciale nel favorire un rapporto stretto tra re Carlo e i suoi nipoti La duchessa di Cambridge, nota per il suo rapporto affettuoso con Carlo, si assicura che egli rimanga connesso ai suoi nipoti nonostante possibili tensioni familiari Nel documentario, Kate, una regina per il futuro, su Channel 5, l'esperto reale Robert Jobson ha sottolineato l'importante influenza di Kate in questo ambito Jobson ha quindi evidenziato Katrin è molto importante nel rapporto tra Charlotte, George, Louis e il re Questo ruolo diventa particolarmente cruciale quando ci sono occasionali tensioni tra re Carlo e suo figlio, il principe William Kate si assicura che il re abbia l'opportunità di trascorrere del tempo con i suoi nipoti Dimostrando il suo approccio diplomatico e amorevole all'interno della famiglia reale Al contrario il rapporto tra re Carlo e i suoi altri nipoti, il principe Archie e la principessa Lilibet, figli del principe Ferri e Meghan Markle, sembra più distante Jenny Bond, ex corrispondente reale della BBC, ha ribadito questi sentimenti, sottolineando la potenziale tristezza che Archie e Lilibet potrebbero provare crescendo a causa dei legami persi Il contrasto tra il ruolo proattivo di Kate nel facilitare i legami familiari e le sfide riportate affrontate da Archie e Lilibet sottolinea le complessità all'interno delle dinamiche della moderna famiglia reale